Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì. Che attenzione, vedrà alta pressione e temperature molto alte al centro-sud, invece il nord deve fare i conti con sistemi nuvolosi atlantici temporali anche di forte intensità. Contrava nuvolosità a terra sull'Italia, vedete il nord è attraversato da questi sistemi nuvolosi che lambiscono anche l'Italia centrale e come precipitazione, questa è la cosa più importante, temporali anche forti sulle regioni settentrionali ma localmente anche Levante Ligure, Alta Toscana, invece nel resto del paese, ripeto, situazione tranquilla ma temperature molto alte. Quindi in definitiva martedì bollente al centro-sud, in Sicilia potremo superare i 45 gradi all'ombra, per fortuna vi anticipo tra mercoledì e giovedì al centro-sud arrivare più fresca. In nord invece temporali che potrebbero coinvolgere anche, vi dicevo, la media alta toscana e temporali che localmente in giornata saranno anche forti, magari di breve durata, ma si rischiano nuovamente grandinate impressionanti e raffiche di venti improvvise. Per rimanere quindi ben aggiornati su cosa capiterà da voi, consultate l'app di Trebi Meteo.